Gentili telespettatori, buona giornata. Anche la giornalista Lucia Annunziata parla di Giuseppe Conte e Giuseppe Grillo, di quello che sta succedendo nel Movimento 5 Stelle ed è convinta che sia emersa la classe dirigente grillina, ma vediamo se quello che dice la sua analisi può essere condivisa o no. Lei è convinta e dice che alla fine Conte e Grillo troveranno un accordo, anche perché i due, avendo personalità forti, dovevano passare da uno scontro per arrivare a un accordo. Hanno fatto questa scaramuccia, ma se avessero voluto rompere lo avrebbero già fatto. Ma di questa storia conta un elemento fondamentale. Da persone responsabili non possono che ricucire. Un leader ha l'obbligo della responsabilità, deve costruire e non distruggere. Per questo troveranno un accordo. Poi bisognerà capire di che tipo e quanto durerà. Beh, sì, ha ragione. Bisogna capire quanto durerà questo accordo se lo troveranno. Ma probabilmente né Grillo né Conte vogliono realmente trovare un accordo. Conte sta aspettando di avere il via libera come capo assoluto. Ma Grillo non vuole cedere il suo potere. Pertanto vorrebbero trovare un accordo, ma vorrebbero tutti e due comandare. Ed è per questo che probabilmente, come dice D'Agospia, la storia dei sette saggi è solo una scusa per far modificare lo statuto, far approvare un nuovo statuto. Così Grillo poi non viene accusato di aver copiato o preso in toto quello di Conte, che ci ha messo cinque mesi, così viene legittimato lo statuto. Si fa, Grillo rimane con i suoi poteri, Conte quando vede il nuovo statuto dice no, io non posso accettare di fare il mezzo leader, arrivederci. E Grillo dice vabbè, è stato lui che non ha voluto accettare lo statuto fatto dai sette saggi. Questo è secondo me quello che potrebbe succedere. Beh, si parla di opzioni, di opinioni. Ovviamente le decisioni non sono né in mano a me né in mano all'annunziata. Che intervistata dal Fatto Quotidiano poi fa un'analisi sulla classe dirigente attuale del Movimento 5 Stelle. Dice così, indipendentemente dall'accordo, in questa storia è emersa la classe dirigente del Movimento 5 Stelle. I sette che sono stati scelti per la mediazione sono coloro che nei momenti decisivi hanno preso sulle spalle il Movimento 5 Stelle. E poi ci sono due figure fondamentali, la cui importanza si nota dal silenzio, dal fatto di non spaventarsi alla prima difficoltà. Sono Luigi Di Maio e Roberto Fico, due figure totemiche, addirittura sono due totem. Sono sembrati immobili e misteriosi, ma hanno agito in silenzio dietro le quinte. Sono due uomini delle istituzioni, uno ministro degli esteri, l'altro presidente della Camera, che lo rimarranno fino alla fine, indipendentemente da cosa succederà nel Movimento 5 Stelle, precisa la giornalista. Allora, realmente questa è la classe dirigente del Movimento 5 Stelle. È emersa? Sì, è emersa. Ma dire che questa è la classe dirigente non vuol dire che siano degli ottimi dirigenti politici? Attenzione, tutti i partiti hanno una classe dirigente. Ovvio. Pertanto, lei dice, è emersa anche nel Movimento 5 Stelle. Certo, questi sono i famosi del Movimento 5 Stelle, questi sette nomi, sono quelli che si sono sentiti un po' di più nelle cronache, nelle interviste in televisione. Ma l'essere famosi, essere quelli, ah sì, l'ho sentito, sì, non mi ricordo la faccia, ma l'ho sentito. Ecco, quell'essere famosi, quell'essere dei VIP, degli influencer politici, questo non significa che poi siano dei buoni o sufficienti dirigenti politici. Dobbiamo distinguere le due cose. Non stiamo dicendo che fantastica classe dirigente. Stiamo dicendo questa è la classe dirigente. E poi fa una previsione l'annunziata sul futuro dell'ex premier, cioè del Giuseppi. Dice, Conte ha fatto un miracolo. Un signore chiamato per fare il garante di un contratto è diventato un politico che ha tenuto insieme due coalizioni di governo e adesso non vuole lasciare la politica dopo la denefenestrazione. Se sparisse, sparirebbe quello che ha fatto. Per questo vuole stare in politica. Quali saranno i primi effetti dello sbandamento del Movimento 5 Stelle? Beh, dice, i prossimi passaggi saranno le amministrative e l'elezione del Capo dello Stato. Se il Movimento si spaccherà, sarà favorita la destra che darà le carte per il prossimo Presidente della Repubblica. Anche questo dovrebbe spingere per l'accordo. Attenzione, attenzione. Voi pensate realmente che a Grillo, Conte o ai grillini interessi l'elezione del Presidente della Repubblica? E che vengano favorite le destre? I grillini sanno già che le destre vinceranno le prossime elezioni. Hanno la maggioranza assoluta in Italia. Hanno oltre il 50%. Loro hanno il 15, il PD, il 18, vanno separati. Poi se Conte fonda un suo partito saranno ancora più divisi, ancora partiti, ancora più piccoli che probabilmente non andranno tutti uniti alle elezioni. Grillo con Conte, se si lasciano definitivamente, poi vanno uniti a braccetto alle elezioni amministrative e alle elezioni politiche, no. Ricordiamo ai gentili telespettatori che nel Movimento 5 Stelle i politici sono interessati unicamente a come poter continuare a prendere lo stipendio. Su questo non c'è minima ombra di dubbio. Il loro pensiero principale è cavolo facciamo? Adesso che finisce il governo? Io che cosa faccio? Che ero abituato qui a Roma a far niente e a prendere 13.000? Che faccio? Vado a fare il commesso in un negozio che mi danno 1200 euro al mese per lavorare otto ore al giorno e mi ci vogliono 13 mesi per prendere quello che guadagnavo qua in un mese per far nulla? Questa è l'unica preoccupazione dei grillini. Capisco che i commentatori televisivi vogliono vedere la politica un po' più in alto di quella che è. Ma attenzione ai 945 parlamentari italiani l'unica cosa che interessa è come mantenere il potere ma non il potere in senso così della parola il potere no? No è lo stipendio che deriva da quel potere. Loro rinuncerebbero totalmente al potere. Guarda tu stai seduto qua ti do 13 mila euro. Lo farebbero tutti a 945. Questa è la base. Pertanto quando dice la giornalista che l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica dovrebbe spingere l'accordo no. L'accordo può interessare per stare nel partito. L'importante è che Conte tolga il vincolo del secondo mandato. Pertanto che Conte prenda un suo partito. Stia nel momento di 5 stelle l'importante è seguir Conte perché Conte è l'unico che potrebbe cancellare il secondo mandato o perlomeno fare una consultazione tra gli iscritti a qualche piattaforma per chiedere questo. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.